Benvenuti all'Angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Oggi vi porto con me in un viaggio a dir poco spettacolare nella Magna Grecia, grazie all'Atlante della Magna Grecia, Italia del Sud e Sicilia tra mito e archeologia, edito da Rizzoli di Marilu Oliva. Marilu Oliva è nata a Bologna, è scrittrice, saggista e docente di lettere. Prima di approdare all'ambito mitologico ha pubblicato romanzi di successo thriller e noir. Per Solferino ha pubblicato il best seller L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, L'Eneidee di Didone, di questo romanzo. Ne ho parlato con l'autrice durante la quarta edizione della rassegna letteraria Pagine d'Autore. Poi l'ultimo appena pubblicato, L'Iliade, cantata dalle dèe assolutamente da non perdere. Ancora a sfondo mitologico sono i libri per ragazzi Il Viaggio Mitico, scritto con suo figlio Matteo, miti straordinari, editi entrambi da De Agostini. Ha curato per Zanichelli un'antologia sui promessi sposi e ancora ha realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa nell'ambito del suo lavoro sulle questioni di genere. Collabora con numerose riviste, è caporedattrice del blog letterario Libro Guerriero e c'è tanto altro ancora da scoprire su questa scrittrice meravigliosa. All'Atlante è un lavoro davvero molto prezioso frutto della passione e della profonda conoscenza che la scrittrice possiede della materia. Viaggiamo attraverso alcune regioni, la Campania, la Calabria, la Basilicata e la Puglia, la Sicilia e sostiamo nei luoghi ai quali il tempo ha voluto bene preservandoli e anche e soprattutto grazie alla cura di uomini esperti e consapevoli di quello che avevano e hanno ancora oggi davanti ai loro occhi un grande bene inestimabile e allora tutto diventa idiliaco e in questo museo a cielo aperto pensiamo anche alle popolazioni, agli dei sostando in luoghi importanti della nostra storia. Un viaggio attraverso il mito, attraverso l'archeologia, attraverso la storia, un viaggio tutto nostro perché ci appartiene, un viaggio alla scoperta di edifici, templi, oggetti votivi, vasi, teatri. Leggo dalla prefazione, questo libro propone diversi itinerali nel sud dell'Italia arcaica, in un tempo in cui i popoli si stavano mettendo in gioco migrazione, accoglienze, ostilità verso lo sconosciuto erano parole non utilizzate ai tempi ma attuate costantemente nella pratica e questo ci fa capire quanto sia forte il legame con temi cocenti della nostra attualità. Immaginiamo questi uomini e queste donne coraggiosi che si lanciavano verso l'ignoto e l'avventura in quello che per loro costituiva una sorta di far west. Magari dalle loro flotte scorgevano villaggi di cui ignoravano la cultura e la lingua, che tuttavia avrebbero appreso, giungevano in luoghi desolati o abitati, non sempre ospitali. Immaginiamo il senso di spesamento, la paura, la nostalgia per la patria, ma anche l'ardimento, lo spirito d'iniziativa, il desiderio di ricominciare. Marilu Oliva coinvolge il lettore attraverso le parole e le immagini. L'attante è ricchissimo di immagini, di illustrazioni che ci aiutano a sognare e perché no anche a viaggiare un po' con l'immaginazione. Un viaggio affascinante e misterioso ma anche una riflessione su quello che ha caratterizzato il sud dell'Italia arcaica attraverso il processo di migrazione che ci riporta al nostro presente. E oggi che cosa è cambiato? Una lettura meravigliosa ci aspetta e non possiamo perderla. Vi aspetto sul mio blog www.faginedautore.it o scrivetemi alla mail o ancora mi trovate sui canali social Facebook e Instagram. Buona lettura!